Avevano preso a pugni calci e schiaffi malmenandoli anche con un bastone due cittadini di San Giorgio Morgeto in provincia di Reggio Calabria, costringendoli persino a farsi consegnare 1500 euro in contanti. Gli autori, in tutto 5 persone tra i 59 e i 22 anni, sono stati arrestati dai carabinieri in seguito alle condanne inflitte dai giudici che vanno dai 4 ai 5 anni per estorsione e lesioni personali. L'organizzatore e l'ideatore dell'aggressione sarebbe stato uno dei 5 picchiatori perché a suo dire sarebbe stato vittima di una truffa da parte di una persona che lo avrebbe indotto dopo averlo contattato via internet a versargli diverse centinaia di euro e garantendogli la possibilità di conseguire una patente senza frequentare l'autoscuola. Patente che però sempre secondo il presunto truffato non sarebbe mai stata conseguita. Da qui la decisione della spedizione punitiva nei confronti dell'ipotetico impostore per ottenere la restituzione dei soldi e quindi la decisione, assieme ad amici e parenti, di farsi giustizia da sé.